Si raggruppa nel recinto della fiera di Padova prima di prendere l'avvio per la tappa che ci condurrà a grado. E avvicinano le vere difficoltà del giro e tutti sono propensi a risparmiare energie per le Dolomiti e per il Berlina. Ma c'è sempre qualcuno che aspetta solo il momento profizio per spingarsela. Gli altri poteva essere se non lì retchetto grosso. L'atleta dell'Atala che ha corso il rischio di essere mandato a casa prima del tempo e che vanamente aveva tentato il colpo ad amano, prende lo spunto da una fuga di De Santi per involarsi dal gruppo. I due veneti giungono soli a grado e dopo essersi divisi tra guardi e volanti lottano ora per la vittoria. La scuola di misura grosso al quale va perciò il bacio della rosa del giro.